Anche l'ex assessore regionale Donato Di Matteo si è unito ufficialmente alla coalizione Io sto con Legnini. La sua adesione è stata spiegata oggi in conferenza stampa alla presenza dello stesso candidato Giovanni Legnini. Dopo aver trascorso gran parte dell'incontro lanciando pesanti bordate contro la giunta d'Alfonso che lo estromise dall'esecutivo e contro lo stesso ex presidente accusato di gestione prepotente, Di Matteo si è soffermato anche sui propositi della sua lista, espressione del movimento civico Abruzzo Insieme. Da sempre ho detto che se il candidato è Legnini, che mi dà garanzie di discontinuità, di competenza e di capacità istituzionale, ho sempre detto che sarò al suo fianco, non solo per il fatto che è un amico ma perché mi garantisce una serie di certezze rispetto alla collegialità, alla discontinuità è il programma che si andrà a sviluppare. A Girosolimo penso che lui debba stare dentro questa mia lista spero che ci ritorni nelle prossime ore. Io dico che lui è una persona validissima è un grande amico che io stimo tantissimo. Lui con me ha costruito nei momenti difficili questo grande argine alle prepotenze, quell'argine che serve oggi a diventare protagonista in una proposta politica dove noi possiamo contare. Se vince questa compagine è fatta da gente nuova. Io ho riflettuto molto perché ritenevo che alcune persone per me non potevano stare nelle liste perché erano state parti attive di cose che io non ho condiviso e che non erano normali. Io penso che però queste persone ricondotte in una marginalità numerica e politica possono fare, può darsi che si possono pure ravedere perché sicuramente saranno messi in quarantena per guarire dai virus che hanno e poi daranno un contributo spero positivo ma è la maggioranza degli eletti di questa compagine che garantirà questo. Noi ci siamo proposti di promuovere invece una coalizione ampia, come ho detto sin dall'inizio che spazia dai progressisti ai liberali ai moderati. Facciamo un appello alle forze di centro anche alle espressioni di centro-destra che si uniscono a questa nuova alleanza per l'Abruzzo in nome dei cittadini e della risoluzione dei problemi della nostra regione. Grazie. 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 Grazie.